I gol del 3-1, i tre gol con cui il Napoli ha battuto il Verona, quindi alzate il volume delle casse. Buon pomeriggio a Tici Ascolta, squadre in campo, tutto pronto per l'inizio della partita. Napoli quest'oggi in maglia rossa, Morganti dai via, Verona che parte. Azzurri che stanno guardando dritto in faccia la Serie A. Dalla bandierina, si prepara proprio Samuele Dallabona, piazza palla nell'area d'angolo, mentre osserva il movimento dei compagni di squadra in area di rigore. Dallabona, l'anno in corsa, il traversone di testa, Gannafaro è del rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete. Domizzi, Domizzi, Domizzi di testa, ha schiacciato in gol. Dallabona, Maurizio Domizzi, il muro del pianto, in area di vigore avversaria, schiacciato in gol, sul palo più lontano. Pegolo nulla potuto, su questa incornata vincente di Maurizio, il muro del pianto, Domizzi, Napoli in vantaggio. Azzurri che stanno guardando dritto in faccia la Serie A, evita il fallo laterale Dallabona. Tende anche l'arrivo di Samuele, Dallabona, prova a rientrare sul destro, Dallabona. Appoggia per Calaiola, mezza girata, nel rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Calaiò, Calaiò, Calaiò. Goldrake, Goldrake, Calaiò. Una zampata da campione, dai 16 metri, forse 18, nessuno se lo aspettava. L'ha girata al volo, ha sorpreso anche Pegolo. E il Napoli ha gonfiato la rete, decimo minuto, 33 secondi del secondo tempo. Verona 0, Napoli 2. Ci stiamo portando dritti verso la Serie A. 2 a 0 per il Napoli. Sesto del metro. Verona che dimezza lo svantaggio. Grande conclusione al volo di Pulsetti. Quindicesimo minuto del secondo tempo. Il Verona ha dimezzato lo svantaggio con una Pulsetti, ma il Napoli si è chiuso troppo in difesa. Napoli che si è chiuso troppo in difesa. Vediamo cosa dice l'arbitro. Reia deve andare fuori. Espulso Reia, che non è di questo avviso, manda a quel paese l'arbitro che lo costringe a andare anzitempo negli scogliatoi. Si giocherà fino al cinquantesimo, con gli azzurri che vanno a battere questa rimessa con le mani. Dalla Pona per Grava, poi Bucchi, in area di rigore, vede De Zerbi. De Zerbi, Dalla Pona e adesso la rete. Si goffia la rete, si goffia la rete, si goffia la rete, si goffia la rete. Dalla Pona, Dalla Pona, Dalla Pona, Dalla Pona, Dalla Pona, Dalla Pona, goffiato la rete. 3 a 1 per il Napoli, 3 a 1 per il Napoli. Siamo in Serie A, siamo di nuovo in Serie A. Dalla Pona, Dalla Pona, Lady Oscar, ha gonfiato la rete per la terza volta, per la terza volta. 48 minuti e in 4 secondi, Napoli 3, Verona 1, Napoli 3, Verona 1, Napoli 3, Verona 1. Finisce qua, finisce qua, sta per concludersi la lunga sofferenza, sta per chiudersi il lungo tragitto di pena. Il Napoli sta per tornare in Serie A. Pochi tifosi del Napoli, appostati nei distinti, salutano la vittoria del Napoli. Salutano il ritorno dell'Italia! E allora, iniziato incontro alla rovescia, The Final Countdown, cantavano gli Europe qualche anno fa.